E' Dianni via Suve, Dianni via, Dianni via, Dianni via! C'è un'altra spettacolo, bellissima! Adesso chi sa Suve che è clio, una macchina o può partire? E' il numero 5 Daniele Di Aperola per la gara di casa Ed eccolo in fase di torno Adesso è scelta il momento, è velocemente E' una parte difficilissima di questo percorso Soprattutto studiato nei minimi particolari Molto lungo e faticoso Il quadro, a quest'ora non faccio da molto il compito dei piloti E' il 14 staccato, ci sono due punti da Matteo Marcio Per dare la parte centrale del percorso l'8 Bellissima realizzazione del 3-6-6 che porta il numero 3 Massimo Nicoli, l'ultimo parte Bellissima realizzazione del 3-6 che riposo Grazie a tutti